Se tu ti senti in sintonia, per caso, con il simbolo della piramide, questo video, questa stesa, diciamo, è quella che fa per te. Quindi sentirsi in sintonia con questo simbolo, che è il simbolo della piramide, un simbolo molto antico, che tra l'altro le antiche egizie hanno utilizzato questo, quindi questo è veramente un simbolo molto antico. Allora, vediamo un attimino, quindi, che cosa ci dicono se troverai, quando troverai un nuovo amore. Vediamo quali saranno le possibilità di trovare un nuovo amore, vediamo un attimino cosa ci dicono. Prima utilizziamo i tarocchi Zen di Osho. Allora, deve avere una nuova visione della vita. Quindi, cosa vuol dire avere una nuova visione della vita? Vuol dire che tu sei, devi cambiare oggetto del desiderio. L'oggetto del desiderio che hai adesso non funziona assolutamente. Devi trovare un nuovo oggetto di desiderio, che significa trovare una nuova persona, trovare una persona che ti può portare qualcosa di buono. Vivrai un periodo di sofferenza per amore, ma la sofferenza per amore non è che nasce da nulla. La sofferenza per amore che andrai a sperimentare nasce dal fatto che tu ti sei agganciata alle persone sbagliate. Deriva dal fatto che dai credito alle persone sbagliate e soprattutto a persone manipolative. Purtroppo la persona che incontrerai o che hai incontrato non sarà la persona giusta per te. È una persona che non ti dà nulla. Dovrai iniziare a concentrarti di più su te stessa, a partecipare a situazioni importanti e acquisire una maggiore consapevolezza di te stesso o di te stessa. Chi ha scelto, diciamo, chi si sente affine alla piramide, ringrazio Anna, chi si sente affine alla piramide, non avrà grandi possibilità purtroppo di trovare un amore. Sarà un periodo di singolitudine. Vediamo, utilizziamo adesso i tarocchi di Marsiglia. I tarocchi di Marsiglia sono tarocchi molto antichi. Ringraziamo il Toy Boy, diffidatevi. I tarocchi di Marsiglia sono tarocchi molto antichi, tarocchi in Gazzovale. I tarocchi di Marsiglia sono tarocchi molto antichi che possono dare delle risposte. Tra l'altro li utilizzava anche il grande Carl Gustav Jung e quindi, diciamo, vediamo che risposte ci danno. Beh, diciamo che la fortuna comunque sta dalla tua parte. Ecco, quindi chi ha fatto la scelta della piramide non è sfortunato, è fortunato. Però avere fortuna e fare cazzate sono due cose che alle volte succedono. E viene nuova la carta della manipolazione. Quindi, purtroppo, troverai persone manipolative che cercheranno di sfruttarti o economicamente o sessualmente, per cui cerca di prendere le distanze. Avrai la possibilità di rendertene conto di queste persone che possono entrare, il diavolo è la manipolazione per eccellenza, e quindi tu invece dovrai andare a cercare proprio l'imperatore, che è una figura istituzionale. Quindi, ti sta dicendo, le carte ti stanno dicendo che i tuoi problemi sentimentali e affettivi verranno causati da una persona manipolativa che incontrerai. Tu conoscerai due persone, conoscerai due persone di cui una sarà, sono venute fuori le carte, estremamente manipolativa, estremamente negativa, però seducente e seduttiva. Tu dovrai imparare a non dare credito a questa persona se vorrai ottenere un beneficio da un punto di vista sentimentale e affettivo, se vorrai conoscere la persona giusta, quella che può essere la persona giusta. Liberati però di un fardello, hai ancora un legame col passato, ringrazio Vale, qua risulta che hai presente ancora un legame col tuo passato. Quindi c'hai in testa probabilmente un ex, una situazione che deve ancora risolversi, un fardello del passato. È evidente che se hai un fardello del passato, non riuscirai a trovare sicuramente poi una persona che possa essere la persona giusta. Bisogna liberarsi dei fardelli del passato. Quindi, ecco, se ti libererai, questa è una cosa molto importante, dei fardelli del passato, avrai anche una grande possibilità di trovare veramente una soluzione sentimentale, affettiva, che possa essere quella giusta per te. Anzi, potrebbe risolversi proprio in un matrimonio, potrebbe risolversi anche in una situazione, però, ripeto, occhio, occhio, tra le due persone che incontrerai, ci saranno due incontri, ce ne sarà una più trasgressiva, devi scartare assolutamente questa persona trasgressiva e rivolgerti all'imperatore, perché conoscerai anche una persona istituzionale e questa persona istituzionale sarà la persona giusta per te, sarà la persona che ti potrà dare sicuramente dei grossi vantaggi da un punto di vista istituzionale. Devi però scartare quella trasgressiva, altrimenti rischierai di finire in una situazione, ecco, guarda, c'è anche il 10, il 10 di coppe che rappresenta proprio la realizzazione sentimentale, effettiva. Quindi, chi ha scelto la piramide, ricordo che questa è la stesa per chi trova affinità con la piramide, chi trova affinità con la piramide, questa è la sua stesa, devi fare molta attenzione, perché, perché ci sono queste due situazioni, diciamo, che possono essere molto, molto problematiche. quindi devi tenere presente che la persona, devi imparare a distinguere la lana con la seta, cioè la persona manipolativa dalla persona istituzionale, perché probabilmente avvierai anche un periodo di afflizione, perché tu ti innamorerai di quella trasgressiva. Quindi, adesso che lo sai, perché ho scelto la piramide, che ci sono queste due persone, devi assolutamente scartare quella che ti fa battere il cuore, quella che è trasgressiva, ma è anche manipolativa, e rivolgerti, come dire, all'altra persona, quella più istituzionale, che magari non è così bella, probabilmente, non è così attraente, ma sarà poi la persona giusta, quella che ti potrà dare la tranquillità, la stabilità di cui hai bisogno, perché giunti alla vostra età, diciamo, da donne mature, di una certa età, è importante avere una tranquillità, non dovete più pensare al cuore che batte, ma dovete pensare proprio a una tranquillità, che vi possa far star bene, perché poi l'obiettivo è quello di stare bene. Bene, per questa stesa, diciamo, per questa cosa sulla piramide è tutto, nel frattempo fate donazioni al canale, fate pure donazioni al canale tranquillamente, e nel frattempo iscrivetevi anche a tutti i miei canali YouTube, iscrivetevi a tutti i canali, e la descrizione.